Ciao ragazzi, allora, piccolo aggiornamento sul torneo dei sub che farò domenica mattina Allora, prima cosa, non streammo oggi pomeriggio, streammo stasera Più o meno dopo cena, vi scrivo comunque a che ora, ma penso verso le 8,8 e mezza Perché oggi esco da fare Allora, volevo dirvi una cosina Allora, il torneo si strutturerà in questo modo Ci saranno, ora non so quante persone esattamente ci sono Perché penso che a chiederlo non otterrei molte informazioni Il torneo inizia alle 10 e mezza Però io lo streaming lo comincio dalle 9 del mattino di questa domenica Così se c'è già qualcuno che può venire Facciamo le cose più sbrigative Perché ovviamente ci saranno dei ritardi Sicuramente ci saranno dei ritardi Nello sviluppo del torneo Perché io potrei anche chiedervi i nomi adesso di chi vuole partecipare E chi può partecipare Però sono quasi sicuro che ci saranno degli intoppi poi al giorno prestabilito Però in effetti forse sarebbe anche meglio far così Quindi scrivetemi qui sotto nei commenti il vostro nickname Il vostro nickname su League of Legends E ovviamente dovete essere dei sub Poi ovviamente in chat su Twitch lo vedrò Però spero nella vostra buona fede Quindi se siete già dei abbonati al canale Oppure pensate di farlo per domenica Magari ditemi già i vostri nomi E così io inizio a fare le coppie per il torneo Perché sarà per l'appunto un torneo all'immunzione diretta E quindi ci saranno due che si sfidano all'inizio Poi due che si sfidano dopo e così così avanti Poi tutti quelli del primo girone andranno nel secondo girone E così via Il classico torneo fino ad arrivare all'ultimo Ricordo ancora che l'ultimo Che vincerà Avrà già diritto al premio in RP E alla fama di miglior Su più forte del momento E poi avrà il privilegio di sfidarsi anche contro di me La sfida contro di me sarà solamente per sfizio Insomma per così Per formalità Cioè voi avete già vinto Cioè se vincete voi avete già vinto Non avete bisogno di sfidare me Ok? La sfida contro di me sarà solamente un ulteriore premio Sperando che lo considerate tale Spero che considerate un premio Poter fare un ulteriore contro di me Io ovviamente userò Zed E voi starete liberi di usare quello che vi pare Io userò sempre Zed Perché ovviamente è il marchio del mio canale Quindi userò Userò ovviamente lui Allora io il torneo lo casterò Lo casterò E a seconda di quante persone ci sono Vedrò Vedrò come castarlo Se castare tutti i match Anche sarà molto difficile Ma probabilmente casterò Ne casterò uno Poi appena finisce quell'uno Andrò subito a castare l'altro E così via Farò un cast a gironi Che adesso ci sono tipo 5 gironi Castro il primo di ogni girone Penso che farò Comunque una cosa del genere Ora comunque c'è anche da vedere È la prima edizione Del torneo Quindi ci saranno sicuramente Delle inesattezze Delle cose ancora da vedere Di sicuro al secondo Sarà tutto Tutto migliore Quindi ripeto Per chi non Magari non avesse capito bene Il torneo di questa mattina Di domenica Di questa mattina Di domenica Avrai inizio alle 10 e 30 del mattino Quindi tutti gli abbonati Che possono E vogliono partecipare Mi raccomando Fatevi trovare in streaming Già con il client aperto Così mi date velocemente i nomi Io vi stilo tutti In 10 15 minuti In gironi E poi Partite a fare le custom Se poi c'è qualche moderatore Che vuole darmi una mano A fare tutto ciò La cosa Sarà Più gradita Sarà decisamente più gradita Però Poi comunque Poi comunque vediamo Nel caso Non sappiate come partecipare Dovete essere abbonati Come si fa ad abbonarvi Andate a vedere Andate a vedere il video Che vi lascio qua sotto In descrizione Nel caso Siate interessati E niente ragazzi Questo è tutto quello Che volevo dire Noi ci vediamo stasera In streaming Verso le 8 8 e mezza Guardate su Instagram E su Facebook Sulla mia pagina Facebook Per vedere Quando vado in live E mi raccomando Guardate anche le notifiche Dell'app di Twitch Che quello Ve le metto immediatamente E niente Noi ci vediamo Per la puntata Stasera in streaming Ciao